Si avvicinano alla vasca Pronti? Oh Mattè Non mi deludere eh Corri Mattè, ruota! Che sa fa, sei sotto i 50, che aspetti? C'è tanto che vedremo! Matteo! 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 Quante classifiche leggiamo ogni giorno? La squadra migliore, il prodotto più venduto, il partito più votato, giusto? Giusto! Allora perché non fare una classifica di chi cerca lavoro? Ma come? Titoli di studio, certificati linguistici, specializzazioni, lavori precedenti che hai fatto, insomma tutto il tuo percorso professionale Lo inserisci in un sito, un algoritmo lo elabora, ti dà un voto e ti posiziona in una classifica Se ci pensi per le aziende, sarà molto più facile trovare la persona giusta, con le competenze di cui ci ha bisogno Potrebbe funzionare? Funzionerà Scusate ma mi ci fate capire qualcosa pure a me? Praticamente parlo di un... Calcolatore matematico del merito Niente più giudizi soggettivi, favoritismi, raccomandazioni, tutto il marcio che rovina sto paese Se tu merdi un posto di lavoro, quel lavoro sarà tuo e nessuno te lo potrà togliere Dovresti iscrivere a una presentazione Devi trovare un nome che funzioni Ce l'ho già E me l'hai suggerito te Io? Sì, hai presente quando dici tu contro tutti? Te lo dico sempre L'ho cercato su Google, l'ho tradotto in tutte le lingue E sai qual'è la versione più bella? Egomnia Egomnia Sì, dal latino Ego io, omnia tutto Ego E chiunque si iscriva al sito Omnia, tutte le possibilità che gli si aprono Ma ti rendi conto? Questa cosa può cambiare l'Italia In futuro forse il mondo sarà meno buono Però grazie ad egomnia sarà più giusto, cazzo Ma quanto sei esaltato? Tanto, tanto Tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto